Da poche ore è ufficiale, i saldi nella nostra regione partiranno il 4 gennaio. Direttore, quello un po' che tutti volevano, soprattutto le organizzazioni di categoria. Sì, abbiamo chiesto con forza di spostare la data del 5, perché come sappiamo con l'ultimo decreto del governo, il 5 e 6, saremo tutti quanti rossi, per cui non era il caso di partire come era già stato stabilito il giorno antecedente la Befana. Qualcuno preferiva magari partire direttamente il 7 di gennaio in zona gialla, ma alla fine abbiamo trovato una mediazione partendo il giorno 4, anche se in zona arancione. Un Natale molto complicato, difficile per gli esercenti della nostra regione? È stato molto complicato, come ben sappiamo siamo l'unica regione che ha avuto ulteriori chiusura nel periodo pre-natalizio e soprattutto il settore moda, abbigliamento, calzature, hanno subito dei danni in più rispetto anche a quello che è successo nel resto d'Italia. Speriamo che la situazione a gennaio comincia a migliorare, sia dal punto di vista epidemiologico e di conseguenza anche rispetto alle vendite fisiche. Sappiamo che è difficile conciliare quelle che sono le esigenze per quanto riguarda la crisi da coronavirus con le esigenze degli esercenti, ma dal mio punto di vista si può trovare una giusta mediazione e fare shopping in sicurezza. I ristori annunciati e previsti sono arrivati? I ristori sono in ritardo, soprattutto quelli della regione Abruzzo, lo abbiamo sollecitato più volte. Dal nostro punto di vista si deve adottare una procedura straordinaria per accelerare l'erogazione dei fondi. È evidente che adottando le procedure ordinarie rischiano di arrivare un po' in ritardo rispetto a quelle che sono le esigenze.